Cari amiche, cari amici, desidero condividere con voi oggi una breve riflessione sull'episodio avvenuto dopo la resurrezione di Gesù e che è narrato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, i versetti da 19 a 23. Leggiamo insieme. «La pace sia con voi». Poi mostrò ai discepoli le mani e il fianco ed essi si rallegravano di vedere il Signore. Gesù disse di nuovo «La pace sia con voi». «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Poi soffiò su di loro e disse «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete non saranno perdonati». Ai nostri giorni milioni di persone premono sui nostri confini e sentiamo minacciate la nostra cultura, la religione, che ormai non pratichiamo più, fra l'altro. E mi domando, vogliamo anche noi chiudere le porte e erigere steccati, palizzate, col filo spinato, muri, dimenticando le porte chiuse in cui noi ci troviamo oggi e la fede cristiana. Cosa dice al riguardo? Si racconta di due eremiti. Vivevano nel deserto in due grotte contigue. Uno accoglieva quei viandanti che si fermavano, l'altro invece non voleva contravvenire alle regole del ritiro e dell'ascesi. e si ritirava in fondo alla sua caverna a pregare. E ogni volta che qualcuno passava da lì, disturbando la sua solitudine, non lo trovava. Rimproverava poi il suo confrotello e poneva come monito una pietra all'ingresso della propria grotta ogni volta che l'altro accoglieva qualcuno. Fino al giorno in cui, pietra su pietra, si murò dentro. C'è chi vive di prigione in prigione. Le porte si chiudono attorno a loro e vivono nell'angoscia che i confini nazionali o religiosi siano troppo aperti, siano spalancati e non si sentono protetti. Noi ci siamo entusiasmati per la globalizzazione quando pensavamo potesse servire solo ad aprire la nostra economia e noi potessimo finalmente essere cittadini del mondo. Ma poi ci siamo accorti che l'economia degli altri invadeva la nostra e che altri volevano essere cittadini da noi. Ci siamo accorti che un focolaio di virus letale scoppiato in Cina in un batter baleno scoppiava anche da noi. Il mio discorso esula dalla situazione di chiusura in cui ci troviamo a causa del coronavirus perché ritengo in generale che la paura del diverso ci fa cadere nella tentazione di murarci dentro come atteggiamento individuale e sociale. In verità non sappiamo oggi se chiuderci o aprirci. È la tentazione di tutti se chiudere il nostro cuore o aprirlo se chiudere i nostri confini o aprirli. Chiudersi può significare chiudersi alla speranza rinchiudersi nei problemi nelle difficoltà o in sensi di colpa senza trovarne la chiave la soluzione un'apertura che ci riaffacci alla vita e all'umanità e nel frattempo rischiamo di rinchiudere gli altri nei nostri stereotipi nei nostri pregiudizi irrigidendo la loro immagine i neri sono tutti così i musulmani sono tutti così i cineti sono tutti così e così via. È impedendo a loro di avanzare verso di noi e noi verso un mondo più aperto come fanno ad avvicinarsi a noi se noi gli teniamo le pietre addosso? Che giudizio possono avere su di noi? Pietre fatte di parole di atteggiamenti di pregiudizi Noi oggi soffriamo ma milioni di persone sono oggi rinchiusi nei campi profughi perché non hanno trovato chi li accolga con i loro bambini con i loro malati con i loro anziani che si sono portati sulle spalle non hanno trovato nemmeno chi potesse provvedere a loro dignitosamente sono buttati in questi campi profughi a marcire. Riflettiamo un po' cosa voglia dire essere rinchiusi allora noi abbiamo imparato qualche cosina di cosa voglia dire questo io personalmente appartengo a coloro che credono ancora al valore della fede e alla sottomissione della mia vita a Cristo cerco di vivere cerco di vivere questa fede nella chiesa e fuori dalla chiesa nel rispetto di tutti respingo però l'idea di una chiesa rifugio in cui le porte si debbano chiudere di fronte all'agitazione del mondo il nostro rifugio nel cuore di Dio no nella chiesa respingo l'idea che in chiesa e nella chiesa basti un po' di elemosina per gli affamati e bisognosi ma dove non si debba parlare di società di politica o di economia perché? Né la chiesa né la fede sono un rifugio dal fracasso del mondo e dall'agitazione della vita per ritrovare tra le sue mura la pace di Dio non è così che funziona ogni luogo chiuso ci rende sordi e ciechi al turbinio della vita in un egoismo confortevole una chiesa così sarebbe un luogo artificiale marginale inutile protetto da vecchi riti da un linguaggio fuori dal tempo la fede è chiamata a contribuire perché la società si apra alla solidarietà all'umanità e alla vita in questo mondo globalizzato molte voci ci chiamano molte grida ci sono da ascoltare troppe troppe ingiustizie da riparare e noi cosa facciamo? chiudiamo le orecchie gli occhi la bocca per questo non abbiamo il diritto di evadere fuori dal tempo nella religione o in una spiritualità che non è anche immersione nelle relazioni umane la spiritualità e la fede si fondano su quello che Cristo è ed è amore relazione amorevole con gli altri relazioni umane a partire dal nostro nucleo familiare certo e che si allargano queste relazioni a raggera come le onde create da un sasso gettato in acqua non disprezzo certo assolutamente non disprezzo la quiete del raccoglimento ai piedi del Signore quello è il mio pane quotidiano e lì in fondo ai nostri silenzi ai nostri vuoti alle nostre attese lì verrà lo Spirito di Cristo accolto nella quiete interiore che però deve affrontare le grida e il silenzio degli esseri umani l'oscurità che stiamo attraversando e la luce che verrà ci affatichiamo a bloccare rinchiudere crocifiggere murare in una tomba non solo il Cristo ma anche l'essere umano più indifeso e la natura la natura che subisce le angherie e l'egoismo dell'economia di mercato e dei nostri vizi o vizietti Gesù è venuto ad aprire quello che altri hanno chiuso e se lui apre nessuno può chiudere e se lui chiude come dice la scrittura nessuno può aprire questo è il senso del capovolgimento della Pentecoste che deve seguire la resurrezione non basta avere la vita di Cristo in noi dobbiamo anche esporci quando un grande soffio di gioia sfonda le porte chiuse e rende la vita più ariosa la racconta della Pentecoste Pentecoste che il Vangelo di Giovanni racconta subito non aspetta 50 giorni non aspetta l'ascensione subito la pace sia con voi e soffia su di loro lo Spirito di Dio è possibile raggiungere qualcosa al di là di me stesso questa è la Pentecoste al di là delle mie pochezze dei miei piccoli doni che mi sembrano insignificante ma Dio mandò Mosè balbuziente a parlare con il Faraone e all'Apostolo Paolo scrivere quando io sono debole lì è la forza di Dio questo ci dice la Pentecoste tutti impauriti discepoli e poi Pietro che esplode nella testimonianza e nella predicazione e questo allergamento del mio orizzonte mi offre più scelta più possibilità di essere perché lo Spirito divino arieggia la vita è dinamismo creatore slancio che gonfia dei polmoni di coraggio e di armonia e permette di resistere alle forze distruttive dell'esistenza la fede come il Paragatute è fatto per aprirsi solo allora sarà sostenuto dall'aria e quando la nostra vita è aperta verso gli altri che consideriamo sorelle e fratelli tutti tutti allora saremo sostenuti dallo Spirito di Dio la pace di Cristo sia con tutti voi vi auguro una serena domenica con l'augurio che possiate trascorrerla in serenità e in pace a risentirci a risentirci a risentirci Grazie a tutti.